Dati riassicuranti da Torre del Greco dopo il primo weekend di riaperture. Fra sabato e domenica sono stati soltanto tre i cittadini risultati positivi al covid. Questi numeri così bassi però possono dipendere anche dal minor numero di tamponi effettuati nel weekend. Non è stata invece registrata nessuna nuova guarigione. Sono 110 torresi tuttora positivi, di cui 15 ospedalizzati. A Torre annunziata sono cinque nuovi casi di contagio da covid nelle ultime 72 ore, a fronte ai 292 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta all'1,71%. Al contempo si registrano anche 14 guarigioni. Sono 46 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 15.943. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 4.580, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 11.363. La percentuale è pari al 27%. Nella giornata ieri i centri vaccinali sono rimasti chiusi in tutta la provincia di Napoli, in attesa dell'arrivo delle nuove dosi, visto che le scorte si sono esaurite. Molto hanno contribuito i vari eventi volti a vaccinare la maggior parte della popolazione in pochi giorni. successo per la notte dei vaccini, ad esempio, indetta all'Asla Napoli 3 Sud fra sabato e domenica. Tantissimi gli over 30 che hanno potuto ricevere la prima dose, con un afflusso regolare e privo di assembramenti e disordini. I centri vaccinali riprenderanno già da domani con l'apertura ai tutti gli hub. Entro 48 ore, infatti, ripartirà la fornitura alla campania delle dosi con la consegna ai 40.000 vaccini AstraZeneca e una consegna di Moderna, mentre mercoledì saranno portate a Napoli 218.000 dosi di Pfizer da distribuire a tutte le Asla della regione.